Spero che possiamo iniziare con la prima sessione del convegno che è dedicata al tema della rivoluzione mondiale e fascismo al periodo tra le due guerre. Il discuss al coordinatore sarà Leonardo Rappone e passo senz'altro a lui la parola. Grazie Silvio. Io eserciterò la funzione di coordinatore limitandomi a dare la parola ai relatori, richiamandoli al rispetto dei tempi. Non indulgerò presentazioni sia per non sottrarre tempo sia perché tutti i relatori sono studiosi ben noti a quello che immagino possa essere il pubblico che segue i nostri lavori. Voglio solo rivolgere un ringraziamento a tutti i relatori di questa sessione per avermi messo a disposizione tempestivamente il loro peper o quantomeno le tracce del loro intervento, rispettando quindi la raccomandazione che era stata rivolta loro dagli organizzatori.